Scusate, vi posso chiedere una cosa? Sapete che cos'è il MOOC? No. Sapete che cos'è il MOOC? Lo sta facendo l'università. No, non parla inglese. Sai che cos'è il MOOC? Mi dispiace, no, il MOOC no. No, non so il MOOC cosa sia. Sì, è il Massive Online Open Course che sta preparando l'università di Bolzano. Il Massive Online Open Course, il MOOC, è disegnato per diventare un'opportunità per tanti studenti che vogliono imparare sulla tematica del comfort, del comfort negli edifici. È un modo per chi non può essere fisicamente a Bolzano di cominciare a capire queste tematiche e approfittare dell'expertise, dell'esperienza di tanti esperti nel settore. È un progetto che riesce a mettere insieme il risparmio energetico e quindi la realizzazione di un edificio che sia in grado di utilizzare le risorse in maniera sostenibile, ma che allo stesso tempo sia in grado di realizzare un ambiente sostenibile per chi lo va, per chi lo utilizza. Sostenibile dal punto di vista del comfort e anche dal punto di vista ambientale. La ricerca e l'innovazione nel campo del comfort sono fondamentali, in parte perché i sistemi tecnologici sia di impianto sia di involucro, quindi anche costruttivi, sono via via sempre più innovativi e quindi anche la concezione di comfort si deve adattare a una nuova idea di edificio e dall'altro perché anche le stesse persone che vi abitano hanno delle esigenze via via sempre più stringenti. Ritengo che questo progetto possa essere utile per i futuri studenti del Master Casa Clima perché è in grado di fornirgli le conoscenze di base che potranno poi utilizzare nei moduli successivi per affrontare in maniera più efficace il periodo di studio e di formazione. Saluto tutti quelli che mi conoscono, che dopo non mi saluteranno più. Grazie a tutti.